La pace di Gesù non è quella del cimitero. Siamo invitati in questa pagina di Vangelo a non guardare a Gesù in maniera rassicurante, ma come colui che smuove nel profondo la mia vita. Dal Vangelo secondo Luca Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Gesù qui parla di fuoco che scende dal cielo e sembrano lontane le parole di pace. Il riferimento in queste sue parole è alla sua passione, al significato che la croce avrà per la storia dell'umanità. Spesso confondiamo la pace che offre Gesù con la pace da cimitero. Pace non significa mancanza di azione o di conflitto. Essere discepoli di Gesù significa agire per amare e portare l'amore di Dio nel mondo. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. La divisione che offre Gesù è quella che non ci deve lasciare indifferenti. Se il Vangelo diventa accomodante, facile e aperto a tutto, allora ci siamo persi qualcosa. Non è la divisione che dobbiamo ricercare, ma ne è la conseguenza. Quando, con la nostra vita, andiamo contro le regole e le leggi inumane di questo mondo, quando abbiamo il coraggio di professare che Gesù è l'unico nostro Signore e non ce ne sono altri, quando riconosco che solo in Gesù ritrovo il volto di Dio e non in altri saggi o sapienti. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Tale divisione arriva persino a minacciare la stabilità di una famiglia. I primi cristiani hanno fatto fin da subito esperienza di tutto questo. Ma se io metto al centro Gesù, tutto il resto riscopre una diversa priorità. Se hai bisogno di un certificato di battesimo per dire che sei cristiano, forse non lo sei davvero mai stato. Grazie a tutti.